Inoccupati, disoccupati, giovani laureati che decidono di inventarsi un lavoro, riunirsi in una cooperativa, offrire servizi, ma anche genitori con figli disabili che vogliono sapere come strutturare il loro gruppo e i loro spazi. Sono davvero tante le consulenze offerte dalla MAG. MAG aiuta le persone che stanno cercando lavoro, innanzitutto ascoltandole, capendo i loro bisogni, le loro motivazioni e poi dalle loro competenze, residue oppure le loro competenze che devono mettere in atto, costruisce proprio un progetto di autoimprenditorialità. Voi sostenete anche, ad esempio, cooperative di genitori con figli disabili che cercano per i loro figli un'occupazione? Certamente, in questi 33 anni è stata un po' la nostra caratteristica di reinventare con genitori, con giovani o con altri che volevano dare una mano fattiva al reinserimento lavorativo, accompagnarli nel loro progetto. Oltre a ciò, la MAG offre da sei anni un servizio di microcredito con prestiti dei 2.000 euro per le necessità urgenti a 20.000 per l'avvio di nuove attività. Ma sono sempre di più le persone che negli ultimi tempi arrivano magari già indebitate, si cercano allora soluzioni alternative. Lo sportello di microcredito funziona ad opera di un gruppo di volontari che qui accolgono e ascoltano i bisogni delle persone, i bisogni di vita, anche la bolletta che non si riesce più a pagare, le spese del dentista, lo sfratto e quant'altro. Oppure anche chi vuole intraprendere una microattività, anche con loro. Facciamo la cosiddetta istruttoria sociale, li accompagniamo nel loro percorso di appianificazione, uscire dalla criticità e insieme alla banca di credito cooperativo di Marano di Volpolicella, con la quale abbiamo delle convenzioni, si studiano delle piccole forme di prestito. Sono tante le persone che si rivolgono a voi per questo? Soprattutto in questi ultimi due anni sono moltissime. E quindi spesso però anche la cosa può concludersi incoraggiando loro non sempre a richiedere un nuovo prestito, ma a guardarsi torno anche nelle loro relazioni o nel ripensare la loro vita se possono trovare altre fonti. Perché in questo periodo anche assistiamo alle richieste di chi è già parecchio indebitato. Per la MAG attualmente ancora nella sede del Chievo, in via Berardi, si sta aprendo l'avventura di una nuova sede più adatta con il sostegno dell'azione a riato popolare per una struttura in zona stadio.